La siccità è sotto gli occhi di tutti. I prossimi mesi potrebbero essere ancora più aridi di quelli visti un anno fa, quando caldo e carenza di piogge prosciugarono la provincia dei laghi. Il prefetto Salvatore Pasquariello mette le mani avanti e invia una serie di circolari a sindaci e autorità del Varesotto per farsi trovare pronti. In agenda una serie di azioni correttive, a cominciare dall'individuazione e riparazione di perdite negli acquedotti, poi le azioni pre-emergenziali che consistono nella limitazione delle forniture, infine quelle emergenziali, invio di autobotti nelle località rimaste a secco e distribuzione di sacchetti d'acqua.